Buonasera, con piacere, sono tanto contentissimissimissimo e onoratissimissimissimo di partecipare anch'io a questa festa dei compiani della TV. Sono contentissimissimo soprattutto perché ci sono i signori bambini, ma anche perché ci sono i signori adulti, sì che poi poverini, sono anche loro dei signori bambini. Dunque, io sono qui, tenterò di fare qualcosina, ma cosa potrei fare? Ci potrei contare una canzoncina, se loro ci può mettere un passaggio, un passaggio di occhio di occhio, mi è volato sulla mano, questa sella andò, tradito edifico, mi ha beccato piano piano, quello che cerco non è la sua mano, mi ha sussurrando, smutendo il capino, voglio soltanto un tuo bottoncino, voglio regalarlo al mio amore lontano. Il padre rotto, innamorato, il bottoncino mi ha bacato, poi soltanto il tuo, se ne volato. Una giacca rotta mi ha lasciato, soltanto un po' di occhio, mi ha lasciato. Oh, 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 oh. Grazie per la visione!